bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono lupo oggi notizie veramente scoinvolgenti probabilmente astragono ha lasciato uno spoiler aperto che in pochi sanno e per cui pochi che non lo sanno sono qui apposta per aggiornarvi ci saranno un sacco di contenuti di mappe aggiuntive nei prossimi nel prossimo periodo nelle prossime settimane tra cui stati uniti occidentali india washington avremo una sorta di mini una frazione del giappone dove potremmo continuare i nostri lavori stradali canada come potete vedere anche singapore in asia insomma sono tante mappe in arrivo che sono in fase di test proprio in questo momento io penso che daranno giusto un paio di mesi per poter completare le mappe attuali poter spipolare per bene il gioco per poi lasciare mano a mano nel tempo altri scenari adesso qui sul video state sto scorrendo e vari scenari che sono in fase di test ma saranno probabilmente disponibili a breve e tanta 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 roba anche russia mosca insomma ragazzi qua c'è da sbizzarrirsi è un gioco che è stato sottovalutato da me in primis e probabilmente anche da i videogiocatori perché questo gioco è un progetto veramente di livello epocale è un gioco che non ci aspettavamo fosse così denso e pregno di contenuti ma quanto pare ce ne sono altrettanti in arrivo le news su construction simulator finiscono qui se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima un saluto vi è piaciuto